Il Comune di Padula Il via questo innovativo progetto che oltre a consentire la raccolta fondi necessaria per la realizzazione delle nuove strutture sportive o per la riqualificazione e la messa in sicurezza di quelle già esistenti, sarà anche utile per favorire una maggiore partecipazione della comunità alla vita amministrativa. Si instaura così un rapporto di collaborazione e condivisione, come riportato nella stessa delibera, per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi che l'amministrazione comunale vuole perseguire. Inoltre, attraverso la campagna di crowfunding, i privati che avranno sostenuto i progetti con le loro erogazioni potranno soffrire di importanti vantaggi fiscali grazie alle disposizioni legislative che riconoscono il credito d'imposta per le erogazioni effettuate dai privati. La previsione del bonus sport non sarà rivolta solo alle iniziative e ai progetti promossi in campo di edilizia sportiva dall'amministrazione comunale guidata da Paolo Imparato, ma andrà anche a vantaggio di associazioni o enti gestori degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale. Il Comune di Padula si conferma così un'amministrazione all'avanguardia, pronta ad adottare sempre nuove ed importanti iniziative sperimentali e innovative per uno sviluppo culturale ma anche economico del territorio. Lo sport è il primo beneficiario di questa iniziativa per l'importanza che riveste nella vita sociale di una comunità ma anche per la capacità di creare aggregazione e confronto sano e per l'importanza che riveste anche nella salute della persona. Praticare attività sportive è fondamentale per il benessere fisico e mentale, farlo in strutture adeguate e sicure è necessario. Grazie all'innovativo metodo di finanziamento del crowfunding si potrà creare un fondo utile al raggiungimento di obiettivi primari della collettività.